Sono tre rasti rosa ad aprire il 2022 della Puglia come a Corato, dove la piccola Lugene è arrivata a soli sei minuti dello scoccare della mezzanotte, accolta dall'equipe dell'Umberto I del centro del Barese e dal sorriso di sua madre si intende un photo finish al primo vagito, che nel capoluogo ha visto Anna Maria venire alla luce proprio a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, a pochi minuti dai tradizionali brindisi, 2,6 kg e un parto naturale, assistito dal reparto di ostetricia e ginecologia del Mater Dei Hospital di Bari. Le restrizioni legate alle emergenze sanitarie regolano l'accesso agli ambienti con il massimo livello di guardia, ma mamma Vittoria sta bene e presto potrà portarla con sé a casa. La piccola Giulia invece ha aspettato circa l'1,30 per fare capolino, pesa 2,8 kg, 47 cm e tanta voglia di vivere, che ha riempito il policlinico del capoluogo. A poche ore e pochi metri di distanza, nella sala parto, riservata alle donne gravide e positive al covid, è nato Vukai, famiglia di origini albanesi, lui e sua madre sono in zona rossa, ma entrambi in ottime condizioni, tanto più dal momento che la struttura, guidata dal professor Ettore Cicinelli, è attrezzata con percorsi di nascita differenziati e sicuri. Nella BAT la prima arrivata dell'anno è Maria, quando è venuta al mondo, era passata mezz'ora dalla mezzanotte, sua mamma Stefania, 28enne di Andrea, sta bene, ad attenderle ci sono un fratellino di 6 anni e un prima sorellina di 3, tutti felicissimi.